Perché sì, siamo tutti bravi a dire sì, abbiamo giocatori, però qualche d'uno è un pochino di livello leggermente superiore, anche se ha fatto male, lo aspetti, come ho aspettato anche tanta gente qui. A Riccardo Maniero ed Antonio Di Gaudio, dopo le dichiarazioni di Piero Braglia, saranno fischiate le orecchie ed avranno anche recepito la stoccata, considerando che entrambi, dopo appena 48 ore, hanno risposto presente alla chiamata. Quei due giocatori che non sono gli unici e che hanno qualcosa in più, devono in questo momento dare una spinta alla squadra che ha bisogno ancora di un piccolo passettino per arrivare davvero a comprendere la propria identità. Maniero e Di Gaudio in questo senso non possono essere dei veri trascinatori, fosse solo per il fatto che conoscono il campionato, ne percepiscono le insidie e sanno come evitarle. È pur vero che forse entrano in condizioni troppo tardi, ma basta saperlo ed avere la giusta dose di pazienza, la stessa che bisognerà avere per Gennaro Scognamiglio. Uno dei pochi che parla, che parla in campo, che con la voce t'aiuta, l'avevamo preso per questo, l'avevamo preso per questo, finora per una serie di circostanze non abbiamo mai avuto. Speriamo che le attese siano brevi e che possa quanto prima darci la mano. Pazienza dunque, è la parola d'ordine. Varrà anche per chi lo scorso anno ha tirato la carretta, ma quest'anno sta dando davvero poco alla causa. Carriere da loi su tutti restano elementi importanti, utilissimi alla causa. Ma il tempo è tiranno, diceva qualcuno, e purtroppo scorre troppo velocemente, soprattutto se gli altri corrono come il vento.